È una storia di resilienza, quella che arriva dall'incubatoio dei pesci di Baveno. Ricorderete che a inizio ottobre, con l'alluvione che ha sconvolto il nostro territorio, anche questa struttura subì dei danni enormi. Migliaia di pesci morti, distrutti centinaia di metri di tubature, a rischio c'era il futuro stesso dell'incubatoio. Ma dopo lo sconforto iniziale, la passione e la determinazione dei volontari ha fatto la differenza. Quando un paio di settimane fa gli amici degli incubatoi di Domodossola, Lesa e Novara ci hanno riportato 200 trote in marmorate che si erano salvate, per noi è stata una nuova alba. Le abbiamo messe in una piccola vasca, ossigenata, grazie ad una tubatura secondaria. In quel momento, le parole del segretario dell'Associazione Volontaria Pescatori Mottarone, Stefano Cardillo, abbiamo capito che avremmo dovuto fare di tutto per riportare in funzione il nostro incubatoio. E così abbiamo fatto. Con l'ausilio di un elicottero, una decina di volontari si sono messi al lavoro per riparare i danni. Sono stati per questo riposati 300 metri di tubature che erano stati spazzati via. Nel prossimo fine settimana sarà reinstallata la presa d'acqua che consentirà poi di rimettere in funzione la turbina e di conseguenza tutto l'impianto. Nel frattempo, come detto, una vasca con le trote marmorate tornate a casa dopo il parcheggio presso gli incubatoi di Domodossola, Lesa e Novara è stata ossigenata grazie alla tubatura secondaria. Tante persone andrebbero ringraziate a partire dagli amici degli incubatoi vicini che ci hanno sostenuto. Ma il grazie più grande va al presidente della Fipsa VCO, Gian Mario Bertoia, per il suo aiuto concreto in termini economici, conclude Cardillo.